Mirko Brunetti e Perla Vatiero discussione al compreanno di Letizia Petris e Maretta fra altri ex concorrenti. Tra alti e bassi, ultimamente purtroppo sembra più o fra bassi che altri, una delle coppie più amate di Temptation Island e Grande Fratello che sono ovviamente per Lavatiero e Mirko Brunetti, continua a resistere nel tempo e al tempo stesso a fare discutere. Ma sul web circolano delle immagini che fanno pensare in perletti. Il tutto è avvenuto durante la festa del 25esimo compleanno di Letizia Petris, dove erano invitati anche altri ex di questa edizione ci stiamo riferendo a Sergio Dottavi e Greta Rossetti. Ad un certo punto, ma non si è compreso il motivo Perla e Mirko hanno iniziato a discutere con un certo ardore almeno secondo quanto riportato da Libero. La notizia viene in parte confermata anche dall'esperto di gossip Amedeo Venza che ha dichiarato sul suo profilo Instagram ufficiale. Durante i festeggiamenti di compleanno di Letizia molti dei presenti hanno notato che tra alcuni concorrenti del GF c'era un po' di maretta. Alcuni non si sono neanche salutati. Vi confermo che è tutto vero. C'è qualcuno che ha ancora il dente abbelenato. Ma tra i fan ci sono anche molti che sono sicuri che non si sia trattata di una discussione anche perché per tutto il resto della serata il loro rapporto è sembrano sereno. Grazie mille.